Mi chiamo Deborah, peso 140 kg e quando avrò finito di parlare, se tutto va come ho progettato, ve ne sarete dimenticati. Nessuno si presenta così. Ciao, mi chiamo Sonia e non vedo una mazza, guardate che fondi di bottiglia che ho. Oppure ciao, sono Filippo e questa mattina mi è uscito un brufolo, guarda qui, lo vedi quanto è grosso? Non conoscete nessuno che si presenta così, non vi siete mai presentati così. Perché? Stiamo parlando di tutte cose che comunque ci mettono in imbarazzo. Perché ci mettono in imbarazzo? Fanno parte del nostro aspetto fisico. E quando ci presentiamo a qualcuno che non ci conosce, il nostro aspetto fisico è il primo biglietto da visita. Perché tutti quanti ci facciamo una prima impressione e tutti ci hanno sempre detto, in parte è vero, che è la prima impressione quella che conta. Quindi quanto è importante dare una bella prima impressione? Se dobbiamo andare ad un colloquio, ci prepariamo, ci pettiniamo, cerchiamo di essere sempre fisicamente ed esteticamente al meglio. Giusto? Ci sono volte in cui si può, ci sono volte in cui non si può. Oggi parliamo di quello, perché una prima impressione svantaggiosa può essere eliminata. Cominciamo a vedere chi sono. Adesso mi presento davvero. Come si vede dalla telecamera, io mi occupo di riprese e montaggio video. Sono una videomaker o, come preferisco definirmi, una videoteller. Perché riprese e montaggio video, il linguaggio del video è un vero e proprio linguaggio e si raccontano storie, si raccontano storie mettendoci anche, nel mio caso, del mio. Ho un'agenzia di comunicazione che si chiama Windreiser, insieme al mio compagno che è qui davanti, che cerca di badare il bambino, che non starà buono sicuramente, però tenete tutti le dita incrociate. Mi occupo, sono pubblicista e quindi mi occupo anche di ufficio stampa e brand journalism per un'associazione di volontariato di Ravenna. Faccio anche formazione, quindi sì, in un certo senso un po' sono anche insegnante e ho un passato da speaker radiofonica, di cui vi parlerò dopo perché c'entra anche con questo talk e che spero mi porterà in futuro a fare progetti, di cui però invece vi parlerò in un'altra occasione o, insomma, se ci sarà modo di seguirmi più avanti. Però chi mi vede non pensa come prima cosa che io faccio la videomaker o la videoteller, che prendo una telecamera e comincio a correre dietro alla gente per fare le riprese, non c'ho il fisico, eppure lo faccio. Cosa succede allora? Succede che quello che faccio non viene rivelato, o meglio, quello che sembro, quello che appaio, può essere un problema per quello che faccio. Quindi l'apparenza, la mia apparenza, può portare a un pregiudizio nelle persone con cui devo trovarmi a lavorare. Il bello è che comunque di solito chi supera questo pregiudizio non ha problemi e si trova sempre bene con me. Come si fa? Qual è la soluzione? Come facciamo a risolvere il gap che c'è tra una possibile pessima impressione che diamo per motivi che non si possono risolvere immediatamente, che possono essere più svariati, poi lo vedremo. Nel mio caso, vabbè, dimagrisci. A parte che dici, la fate facile. Però, insomma, però dici, vabbè, allora, dimagrire potrebbe essere una soluzione. Non lo è. Prima di tutto perché io qui non sto parlando, io non vi sto dicendo dovete sentirvi bene con voi stessi, dovete accettare i vostri difetti, dovete fregarvene di quello che dice la società che è pessima perché bla bla bla. In realtà non vi sto neanche dicendo il contrario, non vi sto neanche dicendo che non dovete accettarvi come siete. Non me ne frega niente, cioè non si sta parlando di questo. Qui stiamo parlando di rapporti professionali, non stiamo parlando della nostra sfera privata. Io nella mia sfera privata ho e devo avere il tempo di risolvere qualunque mio problema. Ma se io devo lavorare perché mangio, è evidente, quello mi vesto, vado anche in ferie, mi piace andare a bere con le amiche, ho le bollette da pagare, ho magari l'affitto, posso avere la rata di una macchina, qualsiasi cosa. Ho bisogno di lavorare, ho bisogno di fatturare. Quindi io il tempo per risolvere quello che può essere un mio problema nella vita privata non ce l'ho. Allora, nella vita privata prendiamoci il tempo per risolvere o accettare una situazione che al momento non è ottimale o può non essere ottimale. Ma nel mondo del lavoro la dobbiamo risolvere in un altro modo. Ma dimagrire non è la soluzione anche per un altro motivo. Perché? Io vi ho portato questo come esempio perché era il più lampante, era forse anche il più effetto. Però se io vi dico, ciao mi chiamo Deborah e sono una bionda naturale, anche le bionde naturali sono sottoposte a un pregiudizio di un certo tipo, lo sappiamo. Soluzione? Tingiamo i capelli. Sì? Vero? Ci sta? Allora vi dico, mi chiamo Gianni e sono calvo, anzi ho proprio la cerchia, la pelata qui in cima. Come la risolviamo? Niente è un problema in realtà, però per chi se ne fa un problema è un problema. Quindi come lo possiamo risolvere? Col toupé? Anche con riporto? Però no, vi prego, no, vi prego. Una bella rasata a zero. Io trovo che gli uomini completamente calvi siano di un sexy, sono bellissimi e anche questa l'abbiamo risolta. Mi chiamo Stefano e sono basso. Le persone non mi prendono sul serio quando vado a presentarmi per lavoro. Comincia a diventare difficile trovare una soluzione qui. Una soluzione immediata che comporti il cambiamento di uno stato di cose, come può essere dimagrire, come può essere farmi il colore di capelli, come può essere tagliarmi i capelli a zero. Mi chiamo Sonia, sono una donna e lavoro in un gruppo di uomini. Questa come la risolviamo? Come? Eh sì, bisogna essere forti, ma questo deve succedere sempre. Purtroppo succede continuamente che le donne, soprattutto quando lavorano in un ambiente maschile, non vengano considerate. Vedo delle teste che annuiscono. Mi fa piacere? No, non mi fa piacere. Ovviamente non mi fa piacere. Succede che vengono considerate non abbastanza preparate, non all'altezza, che vengono interrotte quando parlano. Succede che non vengono ascoltate. Succede che il loro lavoro viene considerato come fatto da qualcun altro. Succede nei casi peggiori, che arrivano le battutine, che arriva anche qualche toccata non richiesta. Fortunatamente queste cose sono cambiate, ma vi assicuro che ci sono uomini che se ne rammaricano. Perché toccare il culo è un complimento, o perlomeno una volta era considerato tale. Per cui una donna, oltre a non offendersi, doveva anche sentirsi lusingata. Sono cose che non sono poi così lontane, soprattutto se pensate che a tutt'oggi, a parità di qualifica, una donna di solito guadagna fino al 20% in meno di un uomo. E questo credo che lo sapevamo tutti. Quindi dobbiamo trovare un altro modo per risolvere la situazione. A me, per esempio, che cosa succede? Vi dicevo, lavoro col mio compagno e ogni tanto lui viene con me a fare, mi fa da operatore, quindi mi fa le riprese. Allora un giorno stavo facendo le riprese per un evento dell'associazione di volontariato con cui collaboro. Ero lì che stavo montando le mie telecamere, le mie bambine, perché le monto io, sono io che decido come va messa l'inquadratura, che distanza, e lui poi controlla. la passano a volontari e mi fa, beh, ma che bella attrezzatura che c'ha tuo marito. Dizio, no. Perché? Cioè, stesso evento, avevo fatto un piccolo montaggio musica e immagini, niente di che. Vanno da lui, bravo, che bel montaggio che hai fatto. Ma veramente l'ha fatto Deborah? Ah, vabbè, è lo stesso. Certo, è lo stesso. L'apoteosi, diciamo l'apice, l'abbiamo raggiunto un giorno in cui io presentavo l'azienda. Nelle slide c'era questa foto, ok? L'azienda, non per farmi pubblicità, ma giusto per specificare, è una ditta individuale, porta il mio nome, si chiama Windreiser di Deborah Ugolini. Alla Camera di Commercio di Ravenna è segnata con il mio nome e cognome, quindi c'era. Questa foto, il mio nome, i miei contatti. Io, di fianco alle slide che parlavo, alla fine della presentazione, sono andati a fare i complimenti a lui! Ops! E grazie Mario! Ride poca gente. Allora, chi non ha capito questa battuta, esca dalla sala. No, chi non ha capito questa battuta deve assolutamente andare a vedere un film che si è perso e quindi poi mi manderete le risate via Messenger perché tanto ridirete. Eh, non ci resta che piangere. Che cosa succede? Succede che a lungo andare, se noi lasciamo che le cose vadano in questo modo, scompariamo. Soprattutto se lavoriamo in un gruppo abbastanza grande. Succede che il nostro lavoro prima o poi verrà attribuito a qualcun altro. Succede che ci saranno persone che se lo autoattribuiranno e che cominceranno a darci talmente tanto per scontati che non se lo ricorderanno più, che quella cosa lì non l'hanno fatta loro ma l'abbiamo fatta noi. Quindi non è importante solo quando ci presentiamo, è importante risolvere questa questione in toto, perché altrimenti il rischio è questo. Io faccio una piccola parentesi, sto facendo esempi quasi tutti legati al mondo femminile. Sono una donna, quindi mi vengono più naturali, ma non è per questo. Il World Camp è un evento straordinario sotto tantissimi punti di vista. Uno fra i tanti è che c'è una parità praticamente chirurgica tra speaker uomini e speaker donne. Chi è abituato a partecipare a corsi di formazione o eventi formativi sa che non è sempre così. Ci sono eventi di formazione che sono formati solo ed esclusivamente da uomini. Questo non sarebbe neanche un gran problema se qualcuno di questi uomini non facesse degli esempi che andrebbero bene giusto al bar quando sei con i tuoi quattro amici. Vabbè, stavo per dire una... Esatto. Non l'ho detto. Ma la Marano mi avrebbe capita. Allora, io vi faccio due esempi che ho sentito con le mie orecchie. durante un evento dove la maggior parte degli speaker erano uomini e la maggior parte dell'uditorio era femminile l'esempio è stato questo. Perché se lasciate la vostra ragazza da sola al bar ve la rubano. Se lasciate la valigia da sola in stazione ve la rubano. È la stessa cosa, no? Uguale. In un'altra occasione fate finta che state andando in vacanza tutti insieme col camper a un certo punto si fora la ruota del camper e voi così per fare quattro risate fate provare alle mogli a cambiare la ruota delle mogli che sanno cambiare la ruota di un camper ma stiamo scherzando? Non fa ridere. È vero. Non c'è niente da ridere. Allora io con questo talk mi voglio prendere una piccola rivincita. Ho detto, beh una volta tanto saranno gli uomini a doverci fare la tara e a capire che gli esempi valgono per tutti sinceramente non credo che sia un problema mi sbaglio? No. Perché gli uomini sono intelligenti diciamolo. Io ci credo tantissimo in questo. Ci credo veramente tanto. Allora torniamo a noi. che cosa può provocare una pessima prima impressione? Quali sono perché potremmo partire svantaggiate? Abbiamo già detto perché siamo donne in un mondo dove ci sono quasi tutti uomini. Oppure un qualsiasi tra virgolette difetto preferisco dire particolarità una qualsiasi particolarità fisica vale per tutti vale per qualsiasi cosa ma non necessariamente cose così grandi io stamattina ho un appuntamento importante di lavoro e ho i capelli che non mi stanno da nessuna parte come devo fare? C'è una roba proprio ho provato tutto li ho lavati tre volte sono in ritardo bisogna che vado oppure sono agitatissima e io quando sono agitata mi viene fuori l'herpes porca miseria sembro Jessica Rabbit come faccio? guarderanno solo quello? è vero perché è questo che pensiamo guarderanno solo quello ma perché guardano solo quello? perché noi ci focalizziamo lì sto prendendo il caffè fra cinque minuti ho il colloquio più importante della mia vita mi danno una spinta da dietro mi sono macchiata la cravatta la maglia la camicia c'è il vestito quello che è diciamo che sono infinite le opzioni ecco perché vi dicevo che è una cosa che vale per chiunque perché può capitare a tutti anche se siamo i più fighi sulla faccia della terra anche se siamo perfetti sotto ogni punto di vista può capitare che un giorno abbiamo il problema di dare una cattiva impressione anzi se siamo i più fighi sulla faccia della terra non ci siamo abituati a dare una cattiva impressione quindi è ancora peggio una buona notizia anzi due la prima che le persone intelligenti difficilmente si fermano alla prima impressione anche perché ricordatevi stiamo parlando di rapporti di lavoro quindi a meno che voi non vi stiate presentando per fare i modelli è difficile che sia quello che interessa la persona che avete di fronte sarà interessata cosa sapete fare e la seconda notizia è che questa cosa si risolve c'è un un proverbio indiano che dice se vedi tutto grigio sposta l'elefante da qui viene il titolo del mio talk come facciamo a spostare l'elefante ve lo dico dopo intanto la prima cosa è che se noi riusciamo a prendere atto che potremmo partire svantaggiati e potremmo dare una prima impressione che ci potrebbe provocare tra virgolette un danno noi comunque siamo già sulla buona strada per risolvere il problema e cominciamo guardandoci intorno cerchiamo di capire come ci vedono le persone per esempio siamo in un in un gruppo con cui dovremo lavorare cerchiamo di individuare di capire di far venire fuori quali sono le persone che non ci cagano non ci filano pari ci sono persone superficiali ci sono persone che giudicano solo ed esclusivamente l'aspetto cosa vi ho detto prima le persone intelligenti difficilmente si fermano alla prima impressione le persone non intelligenti si fermano lì tutti quanti ce la facciamo una prima impressione è una cosa normale noi siamo abituati a ragionare per caselle mentali che ci semplifica nel mondo quindi è tutto normale è stupido fermarsi alla prima impressione però noi in questo modo le persone che si fermano alla prima impressione le riconosciamo perché sono quelle che non si nasconderanno non perderanno tempo a nascondersi davanti a voi perché non vi giudicheranno alla loro altezza non vi giudicheranno pericolosi o importanti per quello che devono fare quindi non cercheranno di stupirvi con effetti speciali e colori ultra vivaci come dicevo una pubblicità che secondo me quasi nessuno di voi ha conosciuto mamma come sono vecchia vabbè lasciamo tu sei grazie grazie era di un televisore vero il tele il telefunken fantastico e quindi che cosa succede si dice che possiamo travestire un asino da cavallo sono andata troppo avanti sono andata troppo avanti scusate ho fatto confusione riprendiamo dall'inizio cerchiamo di capire come ci giudicano ho saltato praticamente due slide quindi fate conto che non abbia detto niente lo sappiamo che mi incasina sono molto emozionata io credo che non si vede grazie cerco cerco di dissimularlo in tutti i modi però sono molto sono molto emozionata grazie mille allora ricominciamo da capo capire come ti giudicano perché se noi riusciamo a capire come ci giudicano possiamo metterci una pezza allora come vengono giudicate le persone grasse le persone grasse vengono giudicate docili facilmente malleabili perché le persone grasse si sentono in colpa perché le persone grasse si sentono in colpa perché non sono magre bisogna essere magre se sei grassa sei una merda scusate mi è scappata bip allora ma anche una donna che lavora in un gruppo di uomini si sente in colpa perché sarà lì di chi è figlia a chi l'ha data qualsiasi difetto fisico noi abbiamo ci sentiamo in colpa perché viviamo in un mondo dell'immagine viviamo in un mondo che ci vuole perfetti e chiunque non rispecchi l'idea di perfezione che viene portata avanti deve sentirsi in colpa allora io entro in una stanza con persone con cui magari devo lavorare e so che queste persone mi vedono e molti di loro non tutti di me pensano che sono una persona timida ci sta che sono docile e che sono una persona che non reagisce no avranno brutte sorprese loro non lo sanno ma io lo so ma dato che loro non lo sanno mantengo un basso profilo ecco dove ero arrivata prima che avevo volato perché manteniamo un basso profilo per capire chi è che ci giudica in questo modo proprio perché come dicevo adesso sì che ci sarà la slide giusta potete anche travestire un cavallo d'asino ma prima o poi raglia e se noi consapevoli di come le persone ci vedono manteniamo un basso profilo e le lasciamo a pensare quello che vogliono le scopriamo subito riusciamo ad individuare subito quelli che vanno solo ad arruffianarsi quelli che secondo loro contano quelli che parlano solo con chi può fargli un favore ok quelli che ti giudicano e si tengono quel giudizio fermo stretto ok quindi prendetevi il tempo vi potete prendere il tempo di capire cosa sta succedendo intorno a voi e poi emergete come venere dalle acque e la gente vi guarderà così cosa sta succedendo ma come ma io pensavo che tu avessi difficilmente voce per parlare e invece parli sei lì sul palco da 20 minuti e continui a parlare e non ti vergogni no perché lo so fare è il mio lavoro non ci credi ma è il mio lavoro a questo punto a questo punto arriva il difficile perché fin qui è semplice basta non fare niente però a questo punto arriva il difficile perché questo è il momento di spostare l'elefante qualsiasi sia l'elefante che sia un difetto fisico che sia un problema temporaneo qualsiasi cosa sia il vostro elefante a questo punto lo dovete togliere da dov'è dovete toglierlo dall'equazione come si fa a togliere l'elefante l'elefante si toglie diventando quello che stiamo dicendo sono perfettamente è la prima volta che ti guardo e sono perfettamente in tempo non ci credo allora vi dicevo che io ho lavorato come speaker radiofonica la prima cosa che ho imparato da speaker radiofonica è sorridere perché devi sorridere che tanto non ti vedono perché io posso parlare e non sorridere voi non lo sapete se sorrido o se non sorrido lo sapete se sorrido se non sorrido secondo me ve ne accorgete se sorrido avete sentito una differenza si sente lavorando in radio avevo solo la mia voce e le mie parole non avevo un aspetto che poteva provocare un'impressione sbagliata è vero ma con la mia voce e le mie parole ho capito ho visto mi sono accorta che potevo costruire dei mondi e vi assicuro che questi mondi li costruiamo anche quando abbiamo le persone di fronte ve lo ripeto chi avete di fronte soprattutto se parliamo di un rapporto di lavoro non gliene frega niente di come siete se avete l'herpes la macchia i capelli spettinati se vi manca un braccio se siete ciechi da un occhio non gliene frega niente gli interessa quello che potete fare è per lui quindi va tolta dall'equazione eliminata dall'equazione questa cosa voi siete una persona con i vostri amici una persona con i colleghi una persona con il vostro con il vostro partner non perché con gli altri fingete perché per ognuna di queste relazioni mettete in gioco delle cose diverse non si tratta di fingere quindi quello che dovete mettere in gioco sono le vostre capacità non c'entra niente quello che sembrate questa è una cosa da non mettere in gioco c'è una mia amica che mi ha detto e vabbè per te è facile te lavori nella comunicazione è vero io lavoro nella comunicazione per cui io metto in gioco la mia capacità di comunicare è fondamentale che io metta in gioco questa lei però è una persona molto intelligente e le persone molto intelligenti sono piene di dubbi sempre ma lei lavorava come broker assicurativa e io le ho detto ma tu quando dovevi vendere un'assicurazione tutti i dubbi li facevi vedere? no ecco è una cosa che facciamo già quindi prima cosa non focalizzarci noi sul nostro aspetto che può essere o non essere o può generare o non generare una prima impressione sempre qualche volta ogni tanto una volta sola e seconda cosa diventa quello che dici costruisci una realtà che sia interessante per la persona per le persone che hai di fronte perché quando diventi quello che dici l'elefante non c'è più e la prima impressione nemmeno ditemi se è riuscito l'esperimento grazie 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 Grazie.